una coppia in transalp sempre presente buongiorno a tutti collegamento da kurdistan iracheno abbiamo raggiunto il primo obiettivo del nostro viaggio come ben sapete siamo contentissimi è dura perché ci sono tanti gradi adesso la mattina è un perino medio spesso 30 però ieri siamo arrivati a 45 però siamo veramente contenti e oggi inizia il vero e proprio tour del kurdistan irachiano esploriamo un po la la zona in provincia di dacuc e andiamo in patria di tachini che è una pasta di sesamo bianco che è molto molto diffuso la città midi poi visitiamo il monastero è quello che incontriamo per strada quello che incontriamo per strada che sono le esperienze più belle sempre con la nostra transalp mi raccomando seguiteci come sempre gas 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 sempre in moto ciao